Signore e signori, ricordando che la solidarietà è il dono più bello, perché chi sta soffrendo possa tornare a sperare in un futuro sereno. Va ora in onda Stefano Tacconi & Friends in Help Island. Ciao da Marco Mazzocchi, siamo in diretta dallo stadio della solidarietà. Stefano Tacconi & Friends in Help Island. È l'isola di guai, è per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu e la giove il blu di chi canta i pipi pipi. Io che ho parato rigori e punizioni, io che ho gioito per imprese da campioni, io che ho vissuto la mia vita a luce ombre, mi sono poi gelato in un giorno di dicembre, ho chiamato i miei amici un coro di campioni, per dare ancora forza per raccogliere le adesioni. Sai cos'è l'isola di guai, è per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu e la giove il blu e chi canta i pipi pipi. C'è un prego tra di noi che certo fa sperare e stringersi di nuovo uniti contro il mare. Di certo la domenica il nostro cuore vola e uniti lo cantiamo come una persona sola. Ci siamo ritrovati per il gol più importante, portare aiuto all'isola e salvare tanta gente. Sai cos'è l'isola di guai, è per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu e la giove il blu e chi canta i pipi pipi. Uniti su quest'isola di solidarietà, campioni attori e attrici l'hanno capito già, e adesso tocca a tutti noi portare un contributo, il gol più bello è sempre donare il nostro aiuto. La 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 la... Help Island Help Island Oh yeah